Uh, no, c'è stato giusto. Che ovviamente una ragazza perde voglia anche a entrarci, trovando comunque una community di gente che non è femmina, perciò c'è molto sconforto nell'entrare, lo posso capire, ma questo non cambia il dato di fatto che comunque le ragazze, spesso e volentieri, l'unico approccio che hanno con i videogiochi... Mamma mia che pare, devo stare attento che poi sta clip va in giro. Sono giochi al cazzo, Animal Crossing, Persona solamente perché c'è la Romance. È purtroppo uno stereotipo che va avanti e che non aiuta questa roba dell'integrazione delle ragazze nel mondo dei videogames. Nonostante dalla parte dei videogames c'è abbastanza aiuto. E c'è l'aiuto in realtà da tanto tempo fa. Parlo di protagoniste femmine, concetti femminili, queste robe qui. Però principalmente me l'hanno preso con la moda di fare la ragazza gamer. È veramente una vergogna, per me io mi vergognerei di essere ragazza a sapere che le massime esponenti di questo genere sono ragazze con le calze in mutande che hanno un joystick così. Puoi farlo ed è bello, sai, ok, mi viene il cazzo duro. Ma non è questo il gaming. E se l'unico approccio che hanno le portavoci di questo mondo qua al gaming spesso finisce in questo è veramente un peccato perché molte ragazze che giocano esistono e purtroppo si devono venire e devono essere smerdate così. Non che il videogiocatore maschio non smerdi, però sono smerdamenti che si perdono nel grande numero di videogiocatori maschi che esistono. C'è una grande varietà. Purtroppo c'è un motivo se esiste la roba eh ma quella ragazza gioca però si mette la scollatura e viva che fa mille viewers. Può farlo? Certo. Ma allo stesso tempo la ragazza che lo fa sa che facendolo non può che ricevere una reazione ignorante dal punto di vista di intelletto. Soprattutto perché chi la guarderà maggiormente è i maschietti. E questa cosa mette un po' benzina sul fuoco del non far approcciare le ragazze ai videogiochi. È un discorso molto complesso e purtroppo in quel video non l'ho spiegato per niente bene quindi sembro un cazzo di sessista che dice donne merda. Non è assolutamente così, anzi, sono il primo che mi dispiace quando qualcuno ha un sogno nel cassetto e qualcosa che gli piace e non può approcciarsi a quella cosa là perché l'ambiente non lo permette. È veramente un'ingiustizia. Che palle. Marco basta guardare Fenrir per vedere una brava gamer. Ma certo che, ma sì sì sì, ci sono, ci sono, ma non la conosco ma sono sicuro, sì mi fido. Semplicemente parlavo di questo nel video, mi stavo spiegando quello che dicevo nel video. Tutto qua. Essere femmina è una merda. Hai mille difficoltà e a volte non riusciamo neanche a pensarci. È così assurdo che lo prendiamo molto sotto gamba. È difficile, è proprio vita in modalità hard. Per quanto la gente possa dire sì, però le ragazze ci hanno in pugno, basta che mostrano un po' di seno e di figa e ci hanno in pugno. Ma sì, vero, perché i maschi non sono altro che marionette. Ma quanto deve essere bello per una ragazza sentire che l'unico valore appropriato gli dai maschi è meramente sessuale. Ma che merda! Ma che schifo, sono veramente for... Noi dipendiamo da loro, basta che fanno vedere un piede. Ma che merda! Manco basta che dicono qualcosa, visto che sono persone come noi, no? Ci hanno in pugno perché hanno la figa. Pessimo! Deve essere orribile per loro sentirti sta cosa qua. E sono cose che purtroppo... I maschietti prendono sotto gamba sta cosa perché... Boh, vengono dal cazzo ed è tutto finito. E vabbè. Viva le ragazze. Nere. E anche quelle bianche. Black Girl's Life Matters. Grazie per aver visto il video. Iscriviti a Bungoji Stajios su YouTube.